musica 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 e ciao ragazzi benvenuti in questo video oggi siamo in un video speciale perchè vi volevo dire una cosa allora sotto questo video fatemi delle domande ok che abbiano senso non tipo quanti cieli ha un criceto in bocca perchè è logico che è undici ma comunque vi volevo dire fatemi delle domande che appunto abbiano senso e niente ora perchè non andare in partita giustamente no se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi attivando la campellina e magari followatemi anche su tiktok e instagram tiktok posto più cose carine ogni giorno penso che su tiktok posterò cose anche quando andrò in vacanza quindi se volete vedere i miei video mentre sono in vacanza ora siccome non posso registrarne troppo ne registro un pochettino li edito non ne usciranno tanti invece se mi seguite su tiktok magari vi ritrovate più video quindi mi raccomando sabatevi se vabbè che se non siamo sul canale viola allora sei di giamborondio sei di bronzo tu e invece tua sorella perchè non è ancora morto nomi di s***** momento smr ok ok ora basta che ho letteralmente rotto tutto il possibile ora pensiamo alla partita pensiamo a vincere e voi pensate alle domande da farmi qua sotto nei commenti perchè è stato troppo bello perchè mentre parlavo mi sono soffocato in una maniera no raga fighissimo cioè come mi sono soffocato io non si soffoca nessuno troppo forte tutti che si vantano di saper fare qualcosa io che mi vanto di essere mi soffocato in una maniera fighissima ok e comunque volevo ringraziarvi tutti per il supporto che mi date ogni giorno guardando i miei video certo sempre che guardate i miei video voi perchè io so che è un bravo criceto e e... o un pu... no io so che è un bravo puffo e che è un criceto assassino come potrei riconoscere a distanza di un chilometro questo tizio davanti alla mia faccia buttato dal ponte di Badulbo ah che? guardate sto criceto cioè non ho nulla da dire sui criceti anzi mi piacciono un sacco ma criceti criceti ma i criceti buoni e i criceti assassini quello ancora... quello non lo sa che c'è la trappola però è scemo c'è da 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 io sono... io sono... non sono un genio ma lui è peggio di me c'è ma bla 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 ok già la mia intelligenza è pari a quella di un cetriolo è andata a male la sua è pari a che cosa? ma me lavo ma veste scendo la prima volta che faccio qualcosa di utile nella mia vita ciao tu che volevi rompermi il letto e non ce l'hai fatto aiutate questo ragazzo chiamando il 3 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 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 nooo secondo voi ha coittato? no non ha coittato è soltanto credito ma io sono un iphone pro max di un palancucchi si baby ma me lavo ma veste scendo c'è non ha coittato ah cosa? eeeh gianfranco ci sono rimasti io e il blu Ma me lavo il mio vestito scende Cati,ati,ati,ati,ati,ati Sono un mostro Del ma... Porco E niente ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Anche se era decisamente cringe Detto questo Ci si vede anche al prossimo video Mi raccomando Iscrivetevi al canale Lasciate like E magari follow me anche su Instagram E TikTok Soprattutto TikTok Perché faccio video belli Carini, pucciosini E unicorno al gelato buffo Detto questo Ci si vede anche al prossimo video Da Markix è tutto E ciao